Musica Bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max, ospite nei nostri studi, il segretario regionale del Partito Democratico Silvio Baolucci, bentrovato. Buonasera a voi. E iniziamo subito con la cronaca, parliamo di economia, le reti di impresa, occasione per la ripresa economica delle PMI e la competizione internazionale. Si è svolto oggi pomeriggio un workshop della Camera di Commercio e di Confindustria Chieti. Vediamo. Oggi non è più un motto, ma è una dimensione produttiva reale. Silvio Di Lorenzo, presidente della Camera di Commercio di Chieti, ha introdotto con queste parole i lavori del workshop di presentazione delle reti su metameccanica e agroalimentare. Le imprese locali hanno bisogno di una nuova visione, di innovazione e di internazionalizzazione sempre più spinta, ha detto Di Lorenzo. E il contratto di rete, assieme alle sue caratteristiche e alle agevolazioni fiscali e contributive che lo contraddistinguono, sono un'opportunità per incentivare e regolare forme di collaborazione, a volte già in atto tra le stesse imprese. Le reti di impresa sono un'opportunità per la ripresa economica e per superare la crisi? Sì, l'abbiamo detto anche due giorni fa, quando abbiamo fatto un altro workshop della Camera di Commercio. Oggi essere in rete significa avere tutta una serie di vantaggi competitivi, non solo economici, non solo dimensionali, ma anche rispetto a quelli che sono i nuovi progetti europei, rispetto al fatto che lo stare insieme significa avere un database più significativo e tutti sanno che avere un database dei clienti, delle potenzialità, delle opportunità è un vero vantaggio competitivo dell'azienda. Non è tanto il fatto di fare più concessionali, più punti vendite, ma capire chi è il nostro cliente e che cosa vuole. Il workshop è organizzato dall'ente camerale in collaborazione con Confindustria Chieti. Per il presidente Paolo Primavera, le reti di impresa sono una priorità per il sistema Confindustria e la provincia di Chieti vanta un'esperienza di successo che spazia dall'automotive all'agroalimentare. Le reti di impresa sono una priorità per il sistema Confindustria e la nostra provincia vanta un'esperienza di successo che spazia dall'automotive all'agroalimentare. Dunque sappiamo fare rete? Certo, queste non a caso sono le due reti che sono partite sotto un aspetto molto positivo e innovativo. La rete dell'automotive e quella dell'agroalimentare. Speriamo che percorrino la stessa strada anche le altre reti che si sono costituite nella nostra regione. Oggi vogliamo rimarcare l'importanza di queste due reti, ma non solo in un contesto territoriale e regionale, ma crediamo nell'opportunità di sviluppare queste reti a livello nazionale e internazionale. Oggi vogliamo diffondere ancora di più questa cultura all'interno delle nostre aziende, perché la riteniamo come l'unica strada percorribile per uscire un po' da questa crisi profonda e penso che in un sistema integrato le nostre aziende possano migliorare l'innovazione e la ricerca appunto aderendo a queste reti e inserendo queste reti in un contesto internazionale. Allora vi ricordo che ospite nei nostri studi Silvio Paulucci, segretario regionale del Partito Democratico. Dunque abbiamo appena ascoltato che c'è una ricetta per uscire dalla crisi e quella delle reti di impresa, almeno una ricetta c'è, insomma mettere insieme le piccole e medie imprese che non sanno fare o non possono fare da sole innovazione soprattutto e poi cercare appunto di sopravvivere e di riuscire ad uscire da questa crisi. Lei come vede questo argomento? Parlare di economia in questo contesto abruzzese è proprio in queste ore emblematico, perché ci ricordano gli ultimi dati che purtroppo la nostra regione soffre di una grave recessione, tra le recessioni purtroppo peggiori per quanto riguarda il nostro paese. Ed è anche sintomatico però di un'inadeguatezza dell'intero corpo istituzionale della nostra regione, a partire ovviamente da chi la guida, dalla regione, perché vorrei anche ricordare che ci sono miliardi di euro all'Aquila per la ricostruzione e immaginare che ad esempio quella realtà non sia di volano o di leva per una ripresa economica che sia più sostenuta in questa regione, che anzi si registra il peggior dato per quanto riguarda il PIL in questa nostra regione che nel resto del paese è appunto sintomatico di un quadro che non tiene. Anche per questo io mi auguro che presto ci saranno novità dalle prossime elezioni regionali, ma detto questo le reti d'impresa restano una delle grandi leve a disposizione della politica e dei portatori di interesse da Confindustria ai soggetti che guardano l'economia allo sviluppo, alla crescita e anche all'occupazione per poter dare alcune risposte. Qualcosa di solido c'è, c'è anche di solido per esempio un progetto, quello proprio sull'automotive, che è il progetto più finanziabile o più pronto a ricevere il finanziamento dei fondi fast. E a proposito di finanziamenti, la regione Abruzzo vuole finanziare con 20 milioni di euro il dragaggio del porto di Pescara per risolvere appunto il problema. Lo ha detto oggi il presidente della regione Gianni Chiodi, che però contestualmente chiede allo Stato di intervenire con altrettanto, ovvero con altri 20 milioni di euro. Il presidente precisa che la struttura portuale appartiene allo Stato, ma alla regione Abruzzo interessa per Pescara e per l'intera regione. Dunque, secondo il presidente Chiodi, ci sarebbe questa uscita, diciamo così, questo modo per risolvere il problema dragaggio a Pescara? Beh, è l'ennesimo fallimento. Anche in quel caso c'è stato un commissario che si è dimesso di recente, il presidente della provincia, del Popolo della Libertà, Testa. Il problema è non solo l'ammontare delle risorse, ovviamente chi ci mette che cosa, ma anche la strumentazione a disposizione. Da questo punto di vista il quadro abruzzese non dà strumentazioni efficaci a che si possa risolvere questo problema così spinoso. Andiamo avanti. A seguito del manifesto del PDL fuori dalle case popolari Rom e delinquenti, Lunar ha trasmesso alla procura di Pescara una comunicazione di reato per la violazione della legge sulla discriminazione razziale. Una delegazione del governo è attesa per il 7 giugno in città. Non è passato inosservato negli uffici romani il manifesto delle PDL fuori dalle case popolari Rom e delinquenti. Una delegazione dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, Unar, operante nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà a Pescara il 7 giugno per incontrare gli amministratori pubblici. Lo rende noto il Presidente della Fondazione Nazionale Romani, Nazareno Guarnieri. Non so ancora dire con certezza chi verrà, se un sottosegretario o qualcun altro, spiega Guarnieri, ma so per certo che il 7 giugno una delegazione del governo verrà a Pescara, presumibilmente per incontrare il Prefetto, il Sindaco e il Presidente della provincia. Proprio in merito ai manifesti delle PDL, 6 metri per 3 affissi in più punti della città, nei giorni scorsi Lunar ha trasmesso alla Procura di Pescara una comunicazione di reato per la violazione della legge sulla discriminazione razziale, la legge 654 del 75. L'affissione scatenò immediate reazioni di condanna nella politica cittadina e regionale. Anche l'Arcidiocesi di Pescara Penne condannò l'iniziativa. Nonostante il PDL avesse comunicato l'immediata copertura dei manifesti, alcuni di essi sono ancora visibili in città. Allora, questo strascico lo abbiamo immaginato un po' tutti. Cos'è stata? Una caduta di stile o cos'altro? Una mancanza ovviamente di cultura, di rispetto, di umanità da parte di chi ha voluto ovviamente prima a immaginare e poi a figgere i manifesti di quella portata. Sono convinto, conoscendoli, che non tutti gli uomini della PDL, anzi che molti, respingono quel tipo di comunicazione. E a loro io penso che stia la responsabilità di respingerlo con fermezza e anche di punire chi si è reso ideatore prima e poi ovviamente esecutore di un simile gesto. Pari opportunità, i quattro comuni capoluogo hanno sottoscritto l'adesione al protocollo d'intesa predisposto dalla Regione per qualificare e valorizzare lo sviluppo di tutte le risorse femminili. Il servizio. Le amministrazioni comunali dei quattro capoluoghi abruzzesi hanno sottoscritto l'adesione al protocollo d'intesa sulle pari opportunità che l'esecutivo regionale aveva già sottoscritto con le province lo scorso 13 aprile per qualificare e valorizzare lo sviluppo di tutte le risorse femminili. Alla sottoscrizione dell'accordo definito patto tra esecutivo regionale e comuni hanno preso parte il presidente Chiodi, la consigliera regionale di parità Letizia Marinelli, promotrice del protocollo, i sindaci di Pescara, Chieti e Teramo, assente per un lutto familiare, il primo cittadino di L'Aquila, Massimo Cialente. Con la firma del patto i quattro comuni si sono impegnati a promuovere il tema della conciliazione, la diffusione sul territorio della cultura delle pari opportunità, la valutazione di azioni di flessibilizzazione e riorganizzazione dei tempi lavorativi, il coinvolgimento delle donne in politica, il sostegno ai centri antiviolenza in un'ottica di coordinamento regionale. L'ufficio della consigliera regionale di parità rappresenterà un nodo di scambio di informazioni e di raccordo istituzionale. Fondamentale, ha detto l'assessore Carpineta, con delega alle pari opportunità, è la collaborazione tra le istituzioni. Spesso succede che sullo stesso territorio un'istituzione fa un'azione e contemporaneamente un'altra istituzione di altro livello fa un'azione che magari va nel senso contrario. In realtà, senza portare quel valore aggiunto, che invece si può portare quando si lavora in rete. Quindi voglio fare veramente complimenti alla consigliera di parità per questo approccio che ha portato e che sicuramente porterà i buoni frutti sul nostro territorio. E allora, si parlava di pari opportunità, elezioni amministrative concluse da un paio di settimane in Abruzzo. Il PD si è affermato su più fronti, ma dicevo anche pari opportunità, perché vi state già preparando alle elezioni regionali che, lo ricordiamo, dovrebbero tenersi a fine 2013. Sì, esatto. Noi, innanzitutto, lo garantiamo dentro il nostro partito, la pari opportunità, costituendo le primarie liste assolutamente paritarie. È ovvio che alcune leggi elettorali andrebbero riformate un po' meglio per garantire la pari opportunità. D'altra parte è nostra la proposta di legge elettorale e regionale che prevede la doppia preferenza proprio di genere. Detto questo, il risultato del Partito Democratico ci soddisfa. Ci soddisfa perché era davvero complicato il punto di partenza del nuovo PD abruzzese. Le vicende del 2008, l'azzeramento di un'intera classe dirigente, il terremoto che, oltre ovviamente a quelle drammatiche immagini che ci ha purtroppo costretto a vivere e a vedere, e alle conseguenze sociali e economiche ha prodotto conseguenze politiche di una sovraesposizione del governo Berlusconi in quella prima fase. Ha spesso utilizzato la città capoluogo come palcoscenico anche per proporre l'attività politica e coprire politicamente i chiodi. Da quel punto di partenza, in due anni, a partire dallo scorso anno e soprattutto quest'anno, abbiamo vinto tante amministrative e il che ci fa ritenere che il prosieguo possa essere a nostra disposizione per chiedere un nuovo mandato di governo. Occorre fare bene là dove abbiamo vinto e occorre proporre una classe dirigente rinnovata. Anche lì faremo molta attenzione alla presenza femminile, non solo sulle candidature ma anche nei ruoli di governo. Ebbene, ce ne ricorderemo, quindi magari ci saranno anche degli assessori donne in caso di Vittoria del centro-sinistra? Penso proprio di sì, penso proprio di sì. Dovremmo stare attenti a mantenere oltre alle pari opportunità la caratteristica che ci ha reso vincenti in questi due anni, essere un partito molto aperto, generoso perché non ripiegato su se stesso, che costruisce laddove è possibile alleanze civiche, Lanciano, Francavillo, Avezzano, o politiche larghe fino ad arrivare a Udc e Flì, Spoltore, Montesilvano, Ortona. Questo ci ha consentito di riportare un successo largo. Non dobbiamo perdere di vista questa importante caratteristica di apertura. Tra i comuni più grandi in cui si è votato nell'ultima tornata elettorale, qual è quello in cui il PD e comunque il centro-sinistra ha riportato la vittoria? Qual è quello che comunque le ha, diciamo così, lo ricorda come il successo più grande? Ma certamente il successo più rilevante di questa tornata è stata l'Aquila. Anche perché sull'Aquila e poi su Montesilvano, ma soprattutto sull'Aquila, il governatore Chiodi ha scommesso, ha investito politicamente, è fallito e c'è stato un giudizio sulla capacità o meno e dunque incapacità di gestire da commissario la vicenda della ricostruzione. Su Montesilvano invece è stato Chiodi a costruire l'alleanza Musa-Maragno e quindi un ballottaggio che si predisponeva per noi in modo più complicato del primo turno e quindi abbiamo riportato due splendide vittorie. Ma poi tutto il resto, voglio dire, Avezzano, Ortona e Spoltore continuano a colorare, per quanto mi riguarda, con un bel sorriso anche proseguendo i risultati dello scorso anno che furono il primo capovolgimento rilevante con Lanciano, Vasto e Francavilla rispetto allo scenario a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni. E adesso la cronaca. Si sono svolti nel pomeriggio a Chieti, funerale di Bruno Romano, cinquantenne appuntato dai carabinieri che si è suicidato sparandosi con la pistola di ordinanza. Ha detto all'audodrappello della legione Carabinieri di Chieti, l'uomo è stato trovato senza vita nella sua auto, poco distante dall'abitazione. E telefonista della Sevel di Atessa, si autoricaricava il telefonino cellulare per 23.504 minuti, chiamando dal fisso del centralino aziendale dove operava in qualità di dipendente della BIT Italia. Con l'accusa di truffa aggravata, il giudice monocratico di Lanciano ha condannato con diritto abbreviato a otto mesi di reclusione e pena sospesa Federico Scardapane, 49 anni, originario di Napoli, residente a Monteodorisio. La Sevel, costituitasi parte civile, ha ottenuto il risarcimento danni pari a 2.740 euro, ovvero uguale importo pagato in bolletta per l'ingiusto profitto ottenuto dal centralinista. Le elecite telefonate erano state effettuate per circa un mese, da novembre a dicembre del 2008. E siamo alla pagina dello sport, ultimo allenamento domani per il Pescara di Zeman. Il tecnico potrebbe ufficializzare il suo accordo con la Roma. Il Pescara, contattato dagli Orossi, è ben disposto ad allenare i biancazzurri in Serie A. Pescara ormai rassegnato con l'addio di Zeman, previsto per la metà di questa settimana. Salvo clamorosi colpi di scena, il tecnico Boemo lascerà Pescara e tornerà a Roma, nonostante l'interesse capitolino sia recente e nato soprattutto dalle pressioni della tifoseria giallorossa. Ma per Zeman il club della Lupa ha sempre rappresentato una tentazione irresistibile. Manca ancora la firma, ma è il nuovo matrimonio ormai prossimo. Il Pescara terminerà gli allenamenti domani pomeriggio e solo dopo ci potrebbe essere l'annuncio della Roma. In vano il presidente Sebastiani ha provato a far cambiare idea al tecnico, mettendo avanti anche un'offerta economica più corposa. E il numero uno bianco-azzurro non desisterà fino a quando non arriverà la definitiva fumata bianca dell'accordo con la Roma, ancora ostacolato da differenze tra domanda e ferte e soprattutto sulla durata dell'ingaggio, col Boemo sempre orientato ad una durata annuale. La dirigenza bianco-azzurra è comunque già al lavoro per trovare una soluzione. Il candidato principale alla guida del Pescara in Serie A resta Delio Rossi, la cui disponibilità è stata già sondata. Giampaolo, Calori e Mangia sono opzioni interessanti, mentre hanno perso quota le candidature di Eusebio, di Francesco e Bergodi. Suggestiva anche l'ipotesi relativa a Ciro Ferrara, che però sembra alquanto remota. Unica certezza che il nuovo allenatore dovrà avere Verratti al centro del proprio progetto tecnico col talentuoso Folletto che rimarrà a Pescara ad ogni costo. Sebastiani è convinto di trattenere con formule diverse anche in signe ed immobile, riscattando anche la metà di Caprari dalla Roma. E a proposito del Pescara, una clamorosa gaffa editoriale del Corriere della Sera, nel poster celebrativo della squadra promossa in Serie A, manca Ciro Immobile. Ed ora la Virtus Lanciano, ripresa degli allenamenti con 100 sostenitori al Memmo, Carlo Mammarella dice che adesso manca l'ultimo sforzo. L'intervista. Ecco la ripresa degli allenamenti con Carlo Mammarella, la prima parola, grazie. Sono dei complimenti che sto ricevendo, sono da dividere sicuramente con la squadra perché credo che tutti dal mister, società, squadra, abbiamo fatto qualcosa di importante. E comunque ancora non abbiamo fatto niente. Io capisco adesso l'entusiasmo per questa finale storica, però da parte nostra c'è la consapevolezza di dover fare ancora quel qualcosina in più. Cosa hai provato in quel momento? Sicuramente l'emozione è stata grande, anche se mancavano ancora 20 minuti alla fine della partita. e sapevamo che comunque Siracusa sarebbe tornato sotto. A un certo punto venivano anche i difensori a saltare, loro buttavano questi palloni. Però è stato un pareggio, ma potrebbe essere anche una vittoria meritata. Perché poi il rigore credo sia stato sotto agli occhi di tutti vergognoso. Grande concentrazione, grande lanciano, personalità. È davvero forse la squadra più forte in questo momento per quello che sta dimostrando. Ma noi quando mettiamo in campo queste caratteristiche credo che sia difficile giocare contro di noi. Adesso poi non parlo di risultato, però ecco, al livello di prestazione credo che sia difficile giocare contro di noi. Bisogna lavorare su questo questa settimana e cercare di mantenere la concentrazione giusta perché poi la troppa tensione può fare anche brutti scherzi. A un passo dalla storia manca l'ultimo sforzo per entrare nella leggenda, Rossoni. Ma credo che quella sia la voglia di tutti, di entrare proprio nella storia, di far rimanere qualcosa di scritto veramente importante da parte dei ragazzi e da parte mia. Qualcosa che non si possa cancellare col tempo. Allora, una bella festa per il Pescara che accede alla Serie A. Comunque un grosso in bocca al lupo anche alla Virtus Lanciano che si sta giocando la finale dei play-off per la Serie B. Ma io ricordo che appena il Pescara salì in Serie A, 15 giorni fa, nella penultima, scrissi che il patrimonio sportivo del Pescara era di tutto l'Abruzzo. E così confermo che a mio avviso il Lanciano in Serie B sarebbe un patrimonio sportivo per tutto l'Abruzzo. Quindi in bocca al lupo al Lanciano, ci dispiace che Zeman lasci e un in bocca al lupo anche a Chiedi che potrebbe salire in prima divisione. Ci potrebbero essere colori sportivi che ridono in questa regione colpite in questi anni da troppe emergenze. Allora, grazie a Silvio Polucci, segretario regionale del Partito Democratico, per essere rimasto con noi. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.